Pini nipi lo chiamiamo Come... come è facile? Tu sei un'abba, devo mettere facile Io non sono un'abba Ciao a tutti ragazzi, sono Kendal Ho parole Io sono Carly Benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft E quest'oggi... Cosa vogliamo fare quest'oggi? Giocheremo a Minecraft Wow, ok, non l'avevano capito Una novità nuova Quest'oggi ragazzi cercheremo di giocare in un nuovo mondo di Minecraft Io e Carly per un'ora O comunque giù di là Come lo chiamiamo il mondo? Propongo di chiamarlo mondo No dai, chiamiamolo tipo... Kendarly Kendarly Kendarly? Perché Kendarly? Kendarly 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 Quindi, via! Si inizia Cercheremo di giocare tipo 5 minuti, 5-10 minuti a testa Quindi poi ci faremo il cambio E... Io non ho le cuffie Non ti servono le cuffie, tanto... E io non sento E vabbè, io ti dico Tu non sei brava con i cri... Oh, guarda che bel bio! Eeeh... Il bio... Io non sono brava No, l'ho detto Va bene Ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace se volete che questo diventi una serie Perché c'è la possibilità che diventi una serie Quanti mi piace dovrebbero lasciare per una possibile serie? Quanti mi piace chiediamo? Eh, è quello che ti sto chiedendo Non lo so, io ti ho ribaltato la domanda Non lo so Vediamo, ogni volta che faccio video con Karly Superiamo sempre i 30-40 mila mi piace Quindi... Eh, aspetta, aspetta 32 mila like 32 mila Va bene Mi piace 32 Beh, quindi cosa dobbiamo fare? Cioè... E niente E niente Niente, basta È finito il video, basta E basta No, allora facciamo un ascia Facciamo il piccone Prendiamo tutta quanta la legna Che cosa vogliamo fare? Perché ci dobbiamo pensare Dobbiamo cercare di ottenere i diamanti Fare la casa Animali Farm Allora io propongo di adottarci al bioma Quindi dici se siamo... Uh L'avamposto dei pillager L'hai mai visto? No, vabbè Sì Sì? Sì Siamo riusciti ad affrontarli? Ecco, io non ci ho mai provato Ma ci proverai Potrebbe essere la prossima missione Magari andiamo insieme contro i villager Contro i pillager magari Non i villager Ok, mi sembra ragionevole Quindi se ti... Allora, il bioma è fantastico Perché abbiamo una foresta di qua Una pianura di là E un piccolo ghiacciaio E minuscolo Io propongo la casa sul ghiaccio Casa sul ghiaccio? E quindi casa di ghiaccio? Eh non so O di legno? Di legno Di legno? Di legno Ok Va bene, allora nel frattempo Sai cosa faccio io? Facciamo un po' gli alternativi Con la casa sul ghiaccio Va bene, va bene Io nel frattempo vado a prendere la legna Se vuoi raccontare una storia nel frattempo Cioè la pietra Se vuoi raccontare una storia nel frattempo Praticamente c'era questo lombrico Che è uscito dal prato Perché c'era la pioggia Poi però un bambino al passato Non l'ha visto E l'ha pestato Morale della storia? Non uscire dal prato Quando è bagnato Quando sei un lombrico Quando sei un lombrico bagnato Va bene, beh Sicuramente sarà molto utile Per tutti i lombrichi Che ci stanno ascoltando Ok Abbiamo trovato del ferro Quindi direi che Nei primi due minuti di video Abbiamo già tutto ciò che ci serve E possiamo Ma perché ci sono io Che ti faccio sostegno morale Se no Non avresti messo Se no Non ce l'avrei mai fatta In tutta la mia vita Infatti io non ho mai trovato il ferro Lo so Allora prendiamolo Mi raccomando ragazzi 32 Mila Mi piace Noi due ci completiamo le frasi a vicenda Per esempio se io dico Quest'oggi ho mangiato un Panino Panino E' vero se abbiamo mangiato un panino E' un E' un formaggio Non ho mangiato il formaggio Vabbè un panino al formaggio Non è vero Il mio era col pollo E' vero c'era il bacon Ho capito ma io ho detto Io ho mangiato Vabbè quello è un problema tuo Giusto Il mio era più buono Facciamo Abbiamo tanto ferro Quindi tutta l'armatura ce l'abbiamo Così almeno non rischi di morire con i creeper Io No io io Non rischio Ho detto Si sa Muoio spesso Contro i creeper Vero Sei un po' Nabbo Tutti lo sanno Tutti lo sanno vero Infatti il mio nickname Su youtube Qual è Kendal Il nabbo Il nabbo È il metto in ferro Fatto Che dici Vuoi continuare tu Adesso sono passati 5 minuti Va bene E dunque Allora Non è che siamo alti uguali Le ho alzato la sedia Cioè Facciamo la prima notte qua in grotta Ma no Ancora manca un bel po' Oddio ma tu che tasto usi per correre No Che brutto Uso control Come tutte le persone normali No No Senti Prendi il ferro E fatti l'armatura Dai Il corpetto Et voilà Brava Guarda come siamo bellini La mia skin E poi Cosa possiamo fare con questo ferro Facciamo Gli stivali Facciamo gli stivalini Se non ci bastano Per i pantaloni Anche detti Super piccoli stivalini Allora Quindi vogliamo fare una casa in legno All'interno No Dentro il ghiacciaio Rompiamo un ghiacciaio E ci facciamo la casa dentro E se poi voglio farmi un cammino in casa Però non posso Ma si che poi non si Non si Scioglie il ghiaccio Penso Ah no E secondo quali leggi della fisica Non si scioglie il ghiaccio col fuoco Credo che Se non sbaglio Se è ghiaccio duro Non si scioglie Se è ghiaccio e basta Si Che fastidio Che fastidio Il control per correre Ma cambialo se vuoi No vabbè Sono un po' I carrabbi No anzi Adesso lo cambio Ah ecco No Sneak e a chinarsi Si C Scusami Non ha senso Perché C Allora quindi vogliamo fare No cosa ho fatto Le hai piantate Vogliamo fare Aspetta Vai a cercare del cibo vero Eh stiamo andando a caccio Signori È giunto il momento Dietro di te E la mesa È un bioma arancione A me sembra Un ragù che scende dalla montagna No Ale sta diventando buio E adesso E vabbè affrontiamo i mostri Sì però ovviamente tu mi hai dato il cambio quando era ancora il giorno Ma tanto tra un po' cambia di nuovo Mucca Mucca E quindi dobbiamo andare il bioma arancione Fammi capire No Se non vuoi no Ma non è È lava È lava Ah pensavo fosse la mesa No Il ragù Vabbè comunque Pecore 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 Facciamo il letto Facciamo il letto Ok uno Non basteranno E due Non basta Non basta Come immaginavo A meno che tu puoi fare un mini letto E adesso dove andiamo Ce l'hanno un posto No 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 Torni indietro Torni indietro Sono ritornato io al comando Senti facciamoci del cibo No io non ci voglio andare contro l'avamposto Quindi meglio di no Io mi sento abbastanza sicura Se l'avamposto? Sì sì No Sì sì Ci andiamo in un prossimo episodio Intanto mangiamo E cerchiamo di sopravvivere per la notte Che se ci facciamo una figuraccia su youtube Mi tolgono il titolo di imperatore Muori Ma che vuoi Vai via Ok Oh oh aspetta Che c'è? Se il ragno può No Ma è rarissimo quello Ma come è rarissimo? A me capita di vederlo ogni giorno Eh no è piuttosto raro in realtà Oh oh ma chi è? Eh tutti contro di me? Siamo già morti Ma che cavolo No 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 Non esiste Stavola milla non dura No 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 Non dura Non esiste non esiste Io non muoio Non posso morire Oh Ti immagini morivo contro le bacche Senti, bimbo zombie Via Torna al Luna Park Sì, brava, tu intrattieni Nel frattempo io mi concentro qua per sopravvivere Ma non cruda Senti, devo ricaricare la vita Eri attanto così per morire Però è successo Sono morto Dimmi un po', sono morto Oh, andatene E via Oh, visto? Distrutti tutti Hai recuperato? Va bene, mi duele dirlo Sì, vabbè, no, ma altri tre? Altri tre volete venire? Non leggerai un cane con quegli ossi Tu lo noleggi il cane? Sì Sì, infatti è quello che stavo andando a fare, guarda Vieni qua, cagnolino Non basta, non sicuro Migliori amici Cagnolino, difendimi Bravo Vai, cagnolino No, non ho, cagnolino Eh, vabbè Eh, vabbè, è durato Mi dispiace interromperti Ma sei un po' in fin di vita Questo lo dici tu Era giusto un po' per ricordarti Ah, aiuta Guarda come mi aiuta Guarda come mi aiuta Il cagnolino Ma si può fargli recuperare la vita? Non mi ricordo No, come osa Ma forse con la Mara d'Oro sì Hai cane? Sì, sì Ma va? Eh, non mi ricordo Non mi ricordo Il problema sono si stupidi scheletri Sono fortissimi Allora, cerchiamo di sopravvivere alla notte E poi Potremo fare quello che vogliamo Dobbiamo uscire da questa palude Cioè, da questa Vabbè C'ho un cuore in mezzo Eh? Mi hai fatto paura Ma scusa Abbiamo messo difficoltà facile Perché ci sono così tanti mostri E lui perché è arrabbiato? Comunque il nostro cagnolino Mi sa che sia un po' in fin di vita In realtà Eh vabbè Pazienza Ce ne troviamo un altro Sei un senza cuore Veramente Cuore di pietra Dai, va bene Poi cerchiamo di recuperargli la vita In qualche modo Adesso Non mi importa Gli devo dare da mangiare Ma non abbiamo cibo Prendi cagnolino Guardalo No, ora sei vivo? Bene, io no Dove sono finiti adesso gli zombie? Cioè, perché non ci sono più mostri? Cos'era quell'assedio di otto ore? Ora non c'è più nessuno? E quindi gli faccio schifo Non vogliono più attaccarmi Non vogliono la salmonella È possibile Ok Siamo ritornati in full vita Almeno quello Quindi prendiamo questa Ora Decidiamoci di fare una casa, per favore Diciamo così Ah Come i nabbi Ne ho solo due Ma noi possiamo mangiarle le bacche? Sì Le ho mangiate prima Ma ti riempiono metà coscia Ah Sto cane sta sopravvivendo Poverino A tutto È immortale Ti riempiono più di tanto Facciamo così Il video finisce non appena morirà il cane No Intanto Non manca molto Poverino Senti Io ho bisogno soltanto di un pochettino di stringhe Per andare a dormire la notte Ok Aia Cagnolino Lascia stare quello scheletro È tutto pelle e ossa Ah ecco perché va contro lo scheletro Sì Dici Boh Ok Ottimo Ok Vieni cagnolino Ottimo Come si chiamava Pluto? Pipo Pipo Così 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 Come i nabbi Ah Però Chi è nabbo Va sano E va a Milano E va lontano Buona No È giorno Ah no No ci sono i mostri Qua no però Buonanotte Signori E la prima notte è andata Malissimo